Eccoci tornare su ARK, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora ragazzi per quanto riguarda oggi andremo a concludere la serie praticamente con l'arena in modalità alfa. Non è esattamente il finale che immaginavo per la serie, però sfortunatamente alcuni artefatti ragazzi veramente mi sono girata la mappa, non so quante volte. E niente, non c'è stato verso di trovare dove so effettivamente, quindi non lo so, è probabile che addirittura non siano stati proprio aggiunti per il momento. A parte questo, sono pure mezzo raffreddato. Allora, vediamo un attimino. Per quanto riguarda i dino che andremo ad utilizzare, sono praticamente tutti i megateri con circa 19.000 di vita. Questo praticamente non so perché, ma c'ha qualche livello in più in vita. Infatti in danno gliel'ho messo un cavo. Ti devi sta calmo tu però, mi hai fatto più un colpo. Si chiama passivo, che non si sa mai. E nulla, ho portato anche il diuti per aumentare il danno, il deidonte per curarli un pochettino, l'acrocanthosauro che non credo in realtà ce lo faccia entrare. E se fa entra il fasola subus, per rompere praticamente un po' l'armatura da broodmother, se funziona, in modo tale che loro facciano un po' più di danno. E nulla raga, a parte questo, niente, se c'è prova, c'ho seri dubbi che possa funzionare però, noi ci proviamo. Fortunatamente comunque è stato aggiunto lo spawn del sarco perché altrimenti non potevamo farla nemmeno in modalità alfa, cavo. Peccato che ci mancano quei due artefatti però sinceramente, a parte che mi sa che ho soffresciato, grande così se parte benissimo. Allora, io veramente evito commenti, è passato un mese raga però, a caspita d'arena è ancora il root, cioè dai ma che cavolo. Cioè ora con tutta la buona volontà. Oh cavolo, eh non si vede niente, cioè veramente, è uno che deve fare. Io, boh, vabbè. Io capisco che comunque la map è montata e, insomma, c'è voglia, il suo tempo, il sistema tutto però. Cioè veramente, ho aspettato più o meno un mese apposta. O meglio, ho aspettato un mese per far usci gli episodi un pochettino più a rilento. E nulla, spera che, insomma, questi artefatti che mi mancano per fare le altre rene venissero aggiunti o, insomma, che ci mettesse Rakev e mettesse artefatti. Stesso discorso per l'arena alfa. Io ora con tutta la buona volontà di quest'universo, no, ma se io non vedo niente nell'arena, come faccio a muovermi? Cioè capi? Eh, non è fattibile. Cioè purtroppo è una cosa assurda. A me purtroppo i finali delle serie non escono mai bene. Però in mia difesa, cioè dopo un mese, non potevo sapere che, insomma, l'arena fosse palesemente rotta. Perché lì, raga, la mod è stata aggiornata più volte, ma rimane rotta quell'arena. Mi dispiace perché, insomma, avrei preferito farvi uscire un finale un attimino diverso rispetto a come è andato, ovviamente. A parte questo, nulla, spero che, insomma, almeno nella prossima mappa riusciamo a riscontrare meno problemi in gioco. Mettiamola così. Quindi niente, raga, il finale è tristissimo. Ci siamo fatti comunque una bella basetta, tutto sommato. E vedi che, la verità, non vedo l'ora esca il prossimo DLC che dovrebbe essere quello da Bearration. Perché quella mappa lì, con Real Engine 5, sarà veramente tanta roba. Però, anche per la prossima serie, ho trovato una mappa veramente tanto carina. Quindi, nulla. Ci vediamo nel prossimo video, con l'inizio della nuova serie. Ciao, ciao, belli.